Innanzitutto buongiorno, con stimoli grandissimi, una grandissima opportunità. Ci sono tutti i margini per poter riprendersi da un momento difficile e cercheremo di fare il massimo. Conoscere le situazioni di classifica, quali sono le prime nozioni, le prime ricette per cercare di passare il momento? Lavoro, il conoscersi, il cercare di cambiare un attimino questo momento negativo, ritrovare certamente autostima e grande convinzione perché questa è una squadra che ha dei valori importanti. Accanto a sé ritroverà due personaggi, due bandiere del Pescara, Sansovini e Ugo Campagnano. Un assetto tattico abbastanza importante. Quali sono le sue prime punti di vista? Sono certamente personaggi importanti, compagni di avventura, non ci sono solo loro, c'è anche un altro staff, voglio dire altre persone, che renderanno questo lavoro migliore e cercheremo, come ho detto prima, tutti insieme di fare il massimo per il Pescara. Quindi non la spaventa situazione di classifica? Assolutamente, bisogna lavorare, crederci, il campionato di Serie B è un campionato che non finisce mai, certamente ritrovare grande entusiasmo e, ripeto, convinzione perché questa è una squadra che ha valori molto importanti.